Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Di nuovo buona domenica a tutti, secondo video di giornata perché dopo l'immortale del giovane olandese Warmerdam nel torneo Challenger che ho postato stamattina e che vi invito a vedere perché è una partita stupenda se non l'avete ancora fatto, adesso è tempo di concentrarci sul Tata Steel Masters. Tata Steel Masters, Tata Steel 2023, questo è uno dei grandi tornei classici, cioè tornei dove si gioca a tempo lungo è uno dei tornei più importanti dell'anno. Partecipano infatti 14 tra i più forti giocatori del mondo in un mix esplosivo di vecchie volpi, tra le quali il campione del mondo Magnus Karzen e i giovani emergenti più forti del mondo. Nella partita di oggi, nel video che stiamo per vedere insieme, è una delle partite decisive del primo turno giocato ieri pomeriggio. La partita tra il giovanissimo indiano Gukesh ed il cinese Ding Liren, numero due al mondo l'unico insieme a Karzen con un punteggio elo classico superiore ai 2800 ed uno dei due giocatori insieme al russo nepponnesi che si giocheranno il titolo di prossimo campione del mondo. E allora, non dimenticate di like al video, partiamo! L'indiano Gukesh apre la partita con D4, Ding risponde con cavallo in F6. C4 e 6, cavallo in F3. Gukesh non vuole entrare nella probabile Nimzo indiana dopo cavallo in C3. Allora, cosa gioca il nero? Ding gioca subito B6. Questa è la difesa chiamata indiana di donna, è una delle difese classiche della storia degli scacchi che negli ultimi anni però ho visto solo raramente giocata a questi livelli. Allora, vediamo come la porterà avanti il fortissimo cinese. Tanto Gukesh gioca la variante in fianchetto, continuazione principale. Alfiere in A6 attacca subito il pedone. Vedete, questo alfiere che vuole andare in G2 non controlla più questa diagonale, allora il pedone va protetto con B3. Alfiere in B4 con scacco, alfiere in D2, l'alfiere torna indietro in E7. Ora, questa manovra di alfiere con lo scacco è la stessa manovra che si vede in tante altre aperture di donna, soprattutto quelle d'aperture tipo la catalana in cui c'è il fianchetto anche da parte del bianco. A cosa serve? Sembra una perdita di tempo, perché uno potrebbe dire ma non poteva portarlo subito in E7 questo alfiere. In realtà non è una perdita di tempo perché anche l'alfiere campo scuro del bianco che adesso si trova in D2, in realtà in D2 non ci sta bene e quindi il bianco dovrà usare un tempo che il nero sembrerebbe aver perso ma anche il bianco dovrà rigiocare questo alfiere e quindi non si è perso nessun tempo. Allora, dopo alfiere in E7 è sempre grande idea completare il fianchetto. Alfiere in G2 attacca la torre che non si può muovere. Le due continuazioni principali del nero sono C6 e D5. Madding gioca l'ottima a rocco corto. Come mai ottima? Perché in qualsiasi caso, vedete, non è che c'è una cattura del cavallo che spostandosi poi attacca la torre, quindi non c'è nessun attacco di scoperta forzante. Anche se il cavallo si sposta c'è sempre tempo di chiudere questa diagonale. E allora a rocco corto per il bianco e arriva a D5. Secondo attacco sul pedone ci sono circa 800 partite in database con questa posizione, ma pensate, siamo già ad un momento importantissimo di questa apertura. La mossa più giocata dal bianco è il cambio C per D5. Mi sono perso. La seconda boss più giocata è il cavallo in E5. In questa partita Gukesh gioca la naturale cavallo in C3. No, ecco, era questo il punto. Oh, io che non conosco bene queste posizioni e lo denota anche come sto esponendo la partita, mi sono andato un po' ad informare. Per quale motivo? Perché tanti esperti di questa posizione hanno un po' criticato questa cavallo in C3 che sembra così naturale. Come mai l'hanno criticata? Perché secondo loro l'alfiere su questa diagonale avrà grossissime difficoltà a trovare una casa attiva. E allora questi esperti cosa avrebbero giocato al posto di cavallo in C3? Ritorniamo indietro perché veramente in questa partita sarà il tema. In questa posizione in molti suggeriscano cavallo in E5 che è una mossa particolarmente fastidiosa per il nero. Che cosa fa? Insieme al pedone la seconda difesa del pedone in C4 libera la forza della diagonale dell'alfiere in fianchetto sulla diagonale principale impedisce lo sviluppo del cavallo nero impedisce anche il cavallo in D7 perché dopo cavallo in D7 arriva cavallo in C6, attacca la donna, attacca l'alfiere, la donna si sposta, il bianco gli toglie l'alfiere più forte, gli toglie la coppia degli alfieri. Quindi questa è l'idea che in molti hanno suggerito al posto di cavallo in C3. E come mai? Perché in C3 ci deve andare questo alfiere campo scuro. Vediamo la partita invece come si sviluppa. Abbiamo detto Gukes gioca a cavallo in C3, C6 chiude questa diagonale principale. Come mai seppur il bianco non abbia aggiunto il secondo difensore Ding non ha cambiato? Perché dopo D per C4, B per C4 non conviene seppur guadagnando un pedone continuare a catturare al nero perché arriva cavallo in E5, alfiere in D5 e qui è il cavallo che cattura il bianco anche con un pedone in meno con la coppia degli alfieri, con il forte alfiere chiaro si ritrova preferibile. E allora per questo che il cinese Ding gioca a C6, arriva alfiere in F4 che migliora l'alfiere e sviluppo del cavallo in D7. Solo adesso C per D5 e per D5, adesso donna in C2 la continuazione più giocata in una posizione equilibrata dove il nero comunque sta bene. Arriva invece qui la novità del giovane indiano che gioca a cavallo in E1. Naturalmente l'idea, quindi questa mossa, la mossa 12, questa mossa di cavallo è la novità che rende questa partita originale. Naturalmente l'idea è quella di portare il cavallo al centro in D3, controllare tre, quattro importantissime case scure centrali. Ding centralizza la torre, torre in E8, cavallo come dicevamo in D3, cavallo in F8. Ora attenzione perché probabilmente qui Gukesh ha due idee principali da poter giocare, due idee che sembrano superiori a tutte le altre. Una è torre in E1 per supportare la spinta al centro E4. La seconda ancora più subdola è quella di giocare A3, mossa profilattica perché praticamente potrebbe arrivare al fiero in B4 che poi inchioda il cavallo sul pezzo pesante che deve andare in E1, ci potrebbe essere il salto del cavallo in E4. E invece Gukesh gioca al fiero in G5. Mossa che obiettivamente serve a poco perché guardate il cavallo portandosi in E6 attacca l'alfiere, lo avrebbe attaccato anche se fosse rimasto in F4 e attacca naturalmente anche il pedone centrale che è in difeso. Quindi è vero che questo alfiere, certo lui prima di giocare alfiere in G5 Gukesh poteva riportare questo alfiere in D2 e poi chiudere e proteggere il pedone. Certo che sarebbe stata una posizione super passiva. E allora forse forse non è sbagliato il ragionamento che in tanti hanno fatto sulla diagonale migliore per questo alfiere campo scuro. Ora con il pedone centrale sotto attacco che sta per cadere e con l'alfiere sospeso sotto attacco Gukesh è costretto a cambiare l'alfiere sul cavallo. Allora alfiere per cavallo in F6, l'alfiere ricattura pedone due volte sotto attacco non ha neanche un difensore e deve essere protetto dal pedone. Arriva adesso la spettacolare intuizione di Ding. Cavallo in C5 cosa fa? Vedete che gioca sulle inchiodature? Attacca per la seconda volta il cavallo inchiodato sulla torre e allora per forza bisogna accettare il pezzo. Allora arriva D per C5 ma naturalmente Ding si riprende il cavallo catturando di alfiere in C3, torre sotto attacco si porta in C1, donna in F6, difende l'alfiere, gli rimane l'inchiodatura, connette le torri e questa è una posizione dove sicuramente il bianco deve stare molto attento. Allora donna in C2 secondo attacco sull'alfiere protetto da D4. C per B6, A per B6, torre in F che va in D1 e allora anche Ding c'entra di inza la seconda torre, torre in A che va in D8 e per D4 l'alfiere ricattura un'altra inchiodatura, il nero guarda pericolosamente alla casa F2. E allora non si può... ora qui naturalmente giocabile, è giocabile questa cattura di alfiere, ma pericolosissima, come mai? Alfiere che cattura in C6 non giocata in partita da Gucke, cioè dicevamo è giocabile, ma torre in C8 seguita da alfiere in B5 e terzo attacco sull'alfiere inchiodato sulla donna è particolarmente rischiosa, fa paura? Pensate, da questa posizione fa talmente paura che veramente se ne esce soltanto sacrificando la donna, cioè l'unica linea che tiene il bianco in partita è cavallo in F4, alfiere in B5 e poi alfiere per alfiere, sacrificio di donna, la torre che ricattura, torre in D8 con l'idea che praticamente il bianco possa tentare di resistere, ma il nero rimane comunque preferibile, sicuramente più semplice da giocare, secondo me, tra due umani il bianco prima o poi non giocherà alla continuazione perfetta e sarà spacciato in questa partita. E allora cosa fa per poter catturare in C6? Gioca cavallo in F4 che chiude l'attacco della donna sulla casa F2 e allora lui non se lo vuole far inchiodare l'alfiere, lui vuole catturare direttamente di donna in C6. Ma arriva G5 che attacca il cavallo? Ora il problema è dove spostare il cavallo. Non si può spostare sicuramente in E2 perché se no arriva la cattura probabilmente addirittura di donna in F2 con scacco. In H3 è brutta lo stesso e bisogna portare il cavallo. Ah, in D3 addirittura perde di botto. Come mai? Perché arriva alfiere per cavallo e ora qui la torre ricattura donna che cattura in F2 con scacco, donna per donna, alfiere per donna con scacco, re in F2, torre per torre. Il nero ha vinto la qualità. Partita finita. E allora dopo G5 che attacca il cavallo, purtroppo il cavallo si deve spostare ma si deve spostare in H5. Cavallo in H5 attacca la donna, la donna si sposta in H6, attacca il cavallo, alfiere in F3 lo protegge. E allora arriva C5, quindi il pedone non è più sotto attacco e protegge insieme alla torre l'alfiere, ne arriva G4. Libera questo alfiere dalla protezione del cavallo e probabilmente c'ha l'idea di giocare, di riportare indietro il cavallo in G3 perché sul bordo ci sta male. Madding trova una mossa forte e molto astuta. Cosa fa? Spinge in F5. La minaccia e la cattura del pedone, quindi di aprire in qualche modo, di indebolire la colonna G, quella che porta al re bianco, astuta perché il pedone, questo pedone F, non si può catturare. Non si può catturare di pedone. Guardiamo, e tant'è che Gukes non lo catturerà. Non si può catturare di pedone perché arriva G4 e qui che si fa? L'alfiere cattura, donna in G5, lo attacca e lo inchioda sul re, anche a giocare H3 arriva torre in E2, torre protetta dall'alfiere e qui la partita è finita. Ritornando a questa F5, non si può catturare nemmeno di donna perché arriva alfiere in C8, donna sotto attacco in C2, torre in F8, attacca l'alfiere sospeso eppure dietro il pedone F2 insieme all'alfiere. Ora, se l'alfiere si sposta, qui casca F2 con scacco, con posizione disastrosa. Se si tenta di proteggere con donna in E2, allora attenzione perché la donna, bisogna sempre stare attenti al contraattacco, donna in C4 con scacco permette poi all'alfiere di spostarsi dove è protetto. Allora il nero deve giocare donna in D6 che controlla due volte la casa D5, adesso lo scacco non serve a niente perché dopo che il re si è spostato gli è rimasto sempre questo alfiere sotto attacco e quindi la donna dovrebbe ritornare indietro. Cavallo in G3 è la mossa migliore ma arriva torre in D che va in E8, donna sotto attacco e si vede che sta per crollare tutto. Per esempio se la donna si porta in D3 c'è alfiere per G4, alfiere per G4, torre in E1 e qui bisogna catturare ma la torre proteggeva la donna. Alfiere in F2 con scacco, donna per donna, la partita finisce qui. Ritorniamo a noi, allora per questo motivo dopo F5 Gukesh porta indietro il cavallo in G3 e allora come dicevamo l'idea era proprio indebolire la colonna G. F per G4 cosa fa Gukesh? Non ricattura con l'alfiere, gioca un'idea, ha capito un altro dei problemi di questa posizione, gioca all'intermedia. Cavallo in F5 che attacca la donna. Donna sotto attacco si porta in F6, di nuovo non catturerà il pedone, giocherà alfiere in E4. Come mai? Lui non vuole indebolire la diagonale principale dove in due mosse, alfiere in B7 e donna in C6, il nero avrebbe due case di matto. E allora che cosa fa? Ding avanza in H5 perché ora qui con l'arrocco indebolito, l'avanzata dei pedoni e con questo inchiodato inizia a essere pericolosissima. Gukesh spinge in B4, vuole indebolire queste protezioni sull'alfiere. Re in F8 si sposta dalle case chiare e non c'è più nessun tipo di scacco neanche di cavallo. Arriva a 3 e allora H4 che servirà per giocare G3, torre in E1 e siamo al momento critico di questa partita ed anche al nostro quizzone perché Ding Liren troverà una combinazione micidiale. E allora mettete pure in pausa se volete e da voi la parola. Ritorniamo a noi, Ding con molto più tempo sull'orologio rispetto a Gukesh che era rimasto con poco più di un minuto, trova una grandissima combinazione. Torre per alfiere, sacrificio di qualità, adesso si può ricatturare sia di torre che di donna, ma qualsiasi delle due ricatture porta sempre al solito tema tattico. La ricattura di donna è quella più corretta e arriva alfiere in D3. Guardate, deviazione micidiale perché l'alfiere è in presa, ma non si può catturare tant'è che Gukesh non lo farà perché se donna per alfiere vedete che la donna rimane sospesa sotto attacco a raggi X, è un attacco a raggi X che arriva sicuramente perché basta dare la cattura con scacco di alfiere la donna è perduta. E allora dopo alfiere in D3 che riprenderà materiale, che ricordiamoci, torre per alfiere, quindi è vero che Ding ha perso la torre ma ha già guadagnato un alfiere, allora tenta il cambio donne, Gukesh, donne in E6, donna per donna, la torre ricattura alfiere per cavallo, due pezzi per la torre, torre sotto attacco ma vince il pedone in B6. Ora però l'idea dell'avanzata dei pedoni continua perché Ding gioca G3, H per G3, H per G3, B per C5 e anche il bianco ha il suo pedone passato ma alfiere in H3 è la mossa che fa abbandonare Gukesh perché qui cosa si minaccia? Intanto il pedone inchiodato non può neanche avanzare, qui si minaccia la cattura con scacco e dove va il re? Il re può andare in H1 o anche in H2, diciamo che va in H2, andiamo un po' a giocare, oltretutto questo non può neanche avanzare se no si perde la torre. Allora qui c'è la cattura con scacco, vedete? Sembra attaccare l'alfiere ma basta promuoverlo a donna e praticamente il bianco dovrà cedere la torre non per alfiere e pedone ma soltanto per pedone. Naturalmente questo è un finale totalmente perso. Quindi grandissimo partitone questo di Ding con una difesa che sembrava un po' abbandonata dai super campioni e che invece oggi abbiamo rivisto, giocata veramente al top, un partitone diciamo di Ding soprattutto con i pezzi neri che come dicevamo qualche video fa, un mesetto fa, sembra veramente essere ritornato in forma. Se sia di nuovo in forma come nell'era pre-covid lo vedremo andando avanti con questo torneo e con i prossimi ai quali giocherà prima di affrontare la sfida per il campionato del mondo. Certo è che in vista della sfida contro Nepo non sembra più il Ding non dico arrendevole ma un po' fiacco degli ultimi due anni e questo è un gran bene per tutto il movimento degli scatti. Spero che la partita vi sia piaciuta, naturalmente non dimenticate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie! 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 Grazie!